due rapine in dieci giorni al sottopasso dei cappuccini il dottor new di lascia marche nord ricci ne propone la benemerenza il turismo si rimette in moto con i tornei sportivi di pasqua weekend gastronomici al vio col gusto di 45 ristoranti sport ital al service mai sazia vince la sua seconda coppa italia buona serata amici amici di rossini tv ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione serale del canale 80 ben ritrovati a rossini news il nostro primo telegiornale della settimana che in questo lunedì 28 marzo apriamo occupandoci di cronaca e concentrandoci su due zone particolarmente sensibili alla micro criminalità e al degrado nella città di pesaro parliamo in effetti della area limitrofa alla stazione ferroviaria ma anche di piazzale primo maggio vediamo questo primo servizio seconda rapina nelle giro di dieci giorni al sottopassaggio pedonale dei cappuccini ieri domenica 27 marzo è capitato ad una donna di 60 anni a spasso col marito la coppia è stata avvicinata da un gruppo di giovanissimi che senza proferir parola hanno aggredito la donna strappandole un ciondolo d'oro dal collo il tutto alle 4 di pomeriggio alla luce del sole a due passi da una chiesa dalla stazione dal centro storico davvero inaccettabile e dire che appena dieci giorni prima un anziano era stato derubato del portafogli attraversando lo stesso sottopasso nel giro di tre giorni la polizia ha individuato i responsabili in quattro minorenni nordafricani senza fissa dimora che stavano alloggiando si fa per dire in una casa abbandonata non lontano dall'istituto alberghiero già è chiaro perché la problematica di micro criminalità in zona stazione monumento della resistenza emiralfiore è soprattutto una problematica sociale dove gli episodi si ripetono nonostante l'abbondante video sorveglianza gli altrettanto frequenti controlli di polizia e il fatto che gli stessi episodi difficilmente restano impuniti problematica che da mesi si è allargata anche in più parti del centro storico ci siamo spesso occupati di galleria a roma di piazza livieri di fronte al conservatorio ora nel weekend si è acceso un riflettore importante anche su piazzale primo maggio il comitato riqualifichiamo pesaro ha infatti indetto una raccolta firme contro il degrado in cui versa il piazzale si chiedono telecamere e controlli per una zona che sta prendendo la piega di quelle che vi abbiamo già citato dove gruppi di persone poco raccomandabili si radunano con episodi di bracchezza molesta fin dalle prime ore del mattino il tutto davanti alla parrocchia di sant'agostino ed ora parliamo di sanità o meglio di politica sanitaria nei giorni scorsi infatti ci siamo occupati dell'ex primario del pronto soccorso pesarese umberto gnudi che ha deciso di lasciare l'azienda ospedaliera marche nord una tematica che è finita anche all'interno del dibattito politico dell'amministrazione comunale ultimissimi giorni di lavoro a marche nord per il dottor umberto gnudi ex primario del pronto soccorso di pesaro e medico in prima linea nei giorni più intensi della lotta al covid 19 già dallo scorso febbraio gnudi ha smesso di essere il direttore del reparto emergenza al suo posto è stato nominato giancarlo titolo già primario del pronto soccorso fanese ma l'ultima novità è che gnudi da aprile lascerà anche l'azienda ospedaliera marche nord palesi le frizioni cominciate dicembre dall'outing del medico contro la condotta dei novax che fece il giro d'italia un episodio al quale seguì una clamorosa conferenza stampa nel giorno della vigilia di natale con gran parte dei primari di marche nord a schierarsi con l'azienda e a prendere le distanze da gnudi e dal suo etichettare il pronto soccorso con dinamiche da terzo mondo ma se gnudi se ne va significa che qualcosa nel nostro ospedale non funziona con queste parole oggi il sindaco di pesaro matteo ricci ha stigmatizzato la vicenda attraverso i suoi canali social ricci ha voluto pubblicamente ringraziare la squadra di gnudi per l'impegno di due anni nella lotta al covid 19 e ora lancia pure l'idea di proporre al consiglio comunale una benemerenza della città per quanto fatto dal medico non solo ricci punta a mettere in calendario un consiglio comunale monotematico sulla sanità perché le cose scrive non vanno come vorremmo riceviamo periodicamente la mentele da dentro e fuori l'ospedale oltre ad un evidente aumento della mobilità passiva tradotto per ricci messo un punto con la vicenda nuovo ospedale a muraglia serve ora un piano di rilancio dell'azienda ospedaliera azienda che perde pezzi perché al pronto soccorso nelle ultime settimane si è passati da 22 medici a 17 una carenza di personale che anche i sindacati continuano a sottolineare a gran voce ultimi giorni di marzo ultimi giorni prima della fine dello stato di emergenza pandemica e con l'arrivo del mese di aprile riprende anche vigore il turismo nella città di pesaro arrivano infatti le prime prenotazioni aiutate soprattutto dai tornei sportivi pasquali dagli alberghi in funzione tutto l'anno a quelli stagionali che riaprono i battenti saranno circa 25 gli hotel della città di pesaro aperti per pasqua primo vero appuntamento di ricettività turistica primaverile un turismo al quale strizza l'occhio la fine dello stato di emergenza pandemico contrassegnato dall'entrata nel mese di aprile ma soprattutto l'assist più importante arriva dai tornei di basket cittadini che dopo due anni di assenza tornano in città e lo fanno annunciando circa 3500 presenze in arrivo nella parte diciamo di aprile abbiamo dei buone delle buone iniziative soprattutto legate all'attività sportive quindi il torneo ciao rudi di pasqua e l'adriatico cap del 25 di aprile porteranno delle buone presenze vediamo che ci sono stanno telefonando stanno richiedendo e ci saranno parecchie squadre di ragazzi che verranno a pesaro quindi con relativamente con parenti amici quindi ci saranno un buon buon andamento il mese di maggio sarà invece un mese come tutti gli anni abbastanza con poche presenze e speriamo di poter tornare a a lavorare poi dalla seconda metà di giugno in poi e dal turismo passiamo alla buona tavola due concetti che tra l'altro si legano spesso a doppio nodo è il caso dei weekend gastronomici di primavera per quello che riguarda l'organizzazione di confcommercio questa mattina infatti presso riviera banca di pesaro è stata presentata la 39esima edizione con 45 ristoranti divisi tra 30 località fra l'aprile e il mese di giugno giunta alla sua 39esima edizione riprende nel periodo primaverile l'iniziativa dei weekend gastronomici un vero itinerario nell'entroterra della provincia di pesaro urbino e nel monte feltro organizzato da confcommercio un percorso culinario e paesaggistico che vedrà da aprile fino a giugno ben 45 ristoratori del territorio proporre originali menu con l'idea di far scoprire non solo le tradizioni e i prodotti tipici ma anche la storia e la cultura dei paesi un ricco calendario con il primo appuntamento fissato a sabato 9 aprile alla cascina delle rose Sant'Ippollito e con l'ultimo in programma domenica 12 giugno all'antica trattoria Fano da Luisa Colli al Metauro e al ristorantino barocco a Mondavio non cambia la formula, la formula è sempre quella vincente e degli anni precedenti abbiamo leggermente ritoccato il prezzo devo dire perché era diventato ormai da sei anni avevamo bloccato il prezzo e con tutti gli aumenti che ci sono stati non solo da bollette energetiche ma anche prodotti alimentari era impensabile, abbiamo cercato un euro, due euro al massimo di accontentare le richieste che viene dal mondo della ristorazione l'ultima cosa, l'abbinamento con l'itinerario della bellezza i weekend gastronomici sono un evento gastronomico ma che consente anche di visitare e di conoscere il nostro entroterra entroterra dove noi siamo molto impegnati anche nella costa ma in particolar modo nell'entroterra, nei borghi con questo progetto itinerario della bellezza che giunge al quinto anno, che ci sta dando grandi soddisfazioni il weekend gastronomico è una bella opportunità di pubblicità per tutti i ristoranti e per tutta l'entroterra perché l'entroterra in questo momento è un'entroterra bellissima perché in primavera sta fiorendo, si vedono fiori, alberi, odori, profumi c'è tutta una serie di verdure, di erbe spontanee che vengono fuori e quindi diciamo che è l'apoteosi della natura che viene esplosa in tutti i suoi livelli la cosa poi bellissima di questi weekend gastronomici che danno la possibilità di prendere la macchina e fare un giro ad un prezzo diciamo promozionale perché nessuno pensa di guadagnare con 20, 22, 25 euro però è uno strumento che tutti gli anni ha funzionato per soprattutto poi penso in questo periodo sia importante per far prendere, alzare insomma, salsi dalla sedia uscire di casa, prendere la macchina e fare un bellissimo giro scoprire poi soprattutto le bellissime realtà che noi abbiamo nell'entroterra e continuano gli aiuti alla popolazione ucraina in fuga dalla guerra il comune di Monbaroccio attraverso il sindaco Emanuele Petrucci e la collaborazione della farmacia Mazza ha consegnato alla Croce Rossa decine di pacchi contenenti farmaci destinati alle esigenze dei cittadini ucraini una generosità che corre di pari passo a quella dei tanti cittadini monbaroccesi che quotidianamente stanno recapitando materiali utili alla protezione civile presso il campo sportivo di Villa Grande domani martedì 29 marzo terzo appuntamento con i concerti del Conservatorio dedicato in particolare a Renata Tebaldi si parla di una conferenza concerto inserita all'interno del ricco cartellone di Pesaro città della musica in occasione del centenario della nascita del grande soprano nella chiesa dell'Annunziata alle 18.30 la musicologa Maria Chiara Mazzi ripercorrerà infatti il periodo di studio trascorso dalla celebre cantante nel Conservatorio Rossini tra il 1942 e il 1943 mostrando i primi passi dell'artista altra musica ma di tutt'altro genere è quella del concerto di Palazzi d'Oriente inserito nella rassegna playlist proposta da Amat e BPR Banca Palazzi d'Oriente produttore e compositore di origine piemontese appartiene alla cultura dubstep e post rock ed atteso venerdì 1 aprile alla chiesa dell'Annunziata di Pesaro alle ore 21 ed ora passiamo alla ricca pagina sportiva di questo lunedì non finisce davvero mai di stupire Little Service ieri sera la squadra pesarese ha vinto la sua seconda Coppa Italia di calcio A5 la seconda consecutiva dicevamo ma anche il sesto trofeo nazionale per la società del presidente Lorenzo Pizza sempre più dominante, sempre più vincente l'Ital Service torna da salso maggiore terme con la sua seconda Coppa Italia consecutiva dopo aver battuto Agniene e Matera fra quarti e semifinale Pesaro vince anche l'ultimo atto con l'Olympus Roma 2-1 il punteggio di una partita decisa interamente in un finale di gara in cui i Capitolini sono passati in vantaggio con Dimash salvo essere rovesciati nel rush conclusivo dal micidiale 1-2 dei Maidomi Borruto e Taborda un altro successo incredibile il sesto trofeo nazionale per la squadra del presidente Pizza addirittura il ventiduesimo nella carriera di coach Colini Facciamo fatica anche noi come società e faccio fatica sinceramente anch'io a definire questa squadra ormai penso che gli aggettivi siano terminati c'è una squadra che comunque non molla mai io mi stupisco sempre di più c'è una partita che come quella di ieri contro l'Olympus Roma sembrava persa e ribaltata nel giro di 50 secondi sono quelle squadre che proprio ce l'hanno insito nel DNA questo carattere vincente giocatori, allenatore è comunque tutto lo staff che non molla mai e quindi questo è veramente qualcosa che ci rende orgogliosi penso che sia qualcosa di straordinario per noi, per la città la cosa più importante come dico sempre noi dobbiamo, parlando anche con la squadra e con l'allenatore noi dobbiamo essere grandi perché dobbiamo fare grande una città una regione e quindi penso che questo sia uno spettacolo meraviglioso tra l'altro ieri davanti alle vetrine di una televisione importantissima come Sky quindi è molto importante prima abbiamo avuto i quarti di finale su Rossini TV quindi anche quella una vetrina meravigliosa poi con Sky penso che questa sia la cosa più bella da trasmettere a tutte le persone che i nostri tifosi tutta una città e una regione e dunque gioisce l'Ital Service ma sorridono molto meno le altre squadre della nostra provincia perché in questo weekend hanno perso sia la VL che la Vispesero ma anche la Megabox Vallefogna finisce con una sconfitta 83-88 l'illusoria domenica del basket pesarese la Carpegna Prosciutto Pesaro gioca con la Germani Brescia 25 minuti fra i migliori della stagione va pure sopra di 16 punti ma patisce la rimonta della Leonessa che si conferma squadra del momento vincendo la sua clamorosa dodicesima partita consecutiva amarezza enorme per una VL presa per mano da Jones, Meiris e Delfino ma che finisce per rimanere con un pugno di mosche in mano per la delusione di Coach Banchi perché in realtà una volta acquisito il massimo vantaggio abbiamo dato la sensazione di aver smarrito un po' quel ritmo e quella consistenza che ci aveva permesso di arrivare in vantaggio con un largo vantaggio fino a quel momento abbiamo perso lucidità abbiamo perso troppi palloni abbiamo dato modo alla crescente aggressività di Brescia di prendere il sopravvento questo ha innescato il loro gioco in transizione che sappiamo essere letale avevamo fatto un buon lavoro fino a quel momento poi era palese che mancassero come detto energie e lucidità un vero peccato perché per quanto prodotto per quei primi 25 minuti mi auguravo soprattutto per la squadra e per l'ambiente che ci ha sostenuto un epilogo diverso sconfitta con zero attenuanti invece per la Vispesero che a Carrara affonda con un perentorio 4-1 subisce la terza sconfitta consecutiva e il sorpasso dei Toscani una gara infarcita di errori difensivi per la Vis che incassa due reti da Figoli e Dumbiani la prima metà di primo tempo a quadro illude col 2-1 in apertura di ripresa ma i gol di Bramante e Battistella fanno di nuova fette una difesa vissina rivelatasi eccessivamente fragile in Serie D resta deluso anche il Fano che non va oltre l'1-1 interno col Monte Giorgio mancando una vittoria che rischia di condannare Granata e Playout nel volley brutta sconfitta anche per la Megabox che lotta ma cede in 3-7 a Monza vince invece senza giocare la Pesaro Rugby Catania presenta casi di positività al Covid-19 e rinuncia alla trasferta marchigiana da ragolamento della palla ovale il forfè costa il 20-0 a tavolino infine domenica si è giocata anche la prima giornata del campionato di football americano gli Angels Pesaro hanno debuttato a Ravenna con una sconfitta onorevole 20-17 al cospetto dell'avversario più forte del girone e con lo sport si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata questa sera dedicata al cortometraggio del regista pesarese Luca Guerini dal titolo Il Putiferio un prodotto cinematografico realizzato con il contributo dei comuni di Pergola e Serra Sant'Amboglio che andrà in onda questa sera appunto alle 21.20 l'informazione su Rossini TV poi torna puntuale domattina alle 7.20 in diretta come sempre dal lunedì al sabato con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini quella di domani di martedì sarà in particolare condotta dalla nostra Emanuela Rossi ed è davvero tutto per questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News ora ci sono le previsioni del tempo a me non resta altro che augurarvi una buona serata in compagnia dei nostri programmi